Sull'estremo settore di destra insegue il pallone Leiner, lo raggiunge, recupera il pallone Barella sulla tre quarti, alza la testa, imbucata per Insigne, al limite, Insigne, parte il tiro, pallone... Allora questa sera il mio pronostico è Italia 2-0, sicuro, sicurissimo, favorita per gli europei, potremmo vincere, vedremo chi incontreremo ai quarti, ma siamo sicuri di passare questa sera. La palla dentro, pallone alla tre quartiere di piede! Centrato dopo l'incrocio dei pali, appena sotto la traversa, che sfortuna qui, bravo immobile! Può essere sempre pericoloso questo Arnautovic, lo abbiamo detto, attaccando un po' Lunatico, che però ha i colpi per mettere in difficoltà l'Italia, e poi dobbiamo sperare che invece incappi in una salata no, per ora se l'ha visto soltanto per quella munizione rimediata dopo un minuto, adesso, insomma, ha fatto suonare un campanello d'allarme, attenzione perché l'Austria non va assolutamente sottovalutata. Partita difficile, stiamo cercando di guadagnare campo, ma siamo fiduciosi. Forza Italia, speriamo di passare il tutto, eh! Insomma, mi pare che il fuorigioco sia abbastanza evidente, aspettiamo dai fori imperiali facciamo un urlo che arriva fino a Muevly, perché ha fatto... Attenzione! E' fuori il gioco! Come andrà andrà, siamo contenti. Recupera il pallone Barella sulla tre quarti, alza la testa, imbucata per Insigne, al limite, Insigne, parte il tiro, pallone deviato! Scusate, scusate se intervento, posso parlare? Abbiamo, abbiamo fatto, pelotti spana la porta, pelotti addio Pessira, Pessira tiro! Andopiando l'Italia! Un minuto di recupero a Barella, 60 secondi di sofferenza per l'Italia, 60 secondi di speranza per Manfred, ma è un valore suo anche a noi lo dobbiamo mantenere siamo felicissimi, siamo ci abbiamo messo 120 minuti ma ce l'abbiamo fatta